un poldergeist digitale buongiorno ciao no vabbè ha ricominciato la registrazione spero che stia registrando se no sta registrando buongiorno allora abbiamo appena avuto un poldergeist digitale adesso lo vediamo ciao monica e siamo ciao olga 5 4 3 2 1 dimmi se la vedi sì la vedo nel mare praticamente quasi in mezzo al mare intorno a lei c'è il salvagente e vedo che d'improvviso lei si trasforma in un delfino che guizza fuori dal salvagente e si tuffa gioiosamente dentro al mare e quindi fa una serie di saltelli chi dà l'autorizzazione in questo modo si saltando fuori facendo sai quel verso che sembra quasi una risata no da parte del delfino vibrazione di olga 27 miliardi vibrazione di olga se non avesse visto se avesse visto due sessioni 2 miliardi consapevolezza 173 consapevolezza se avesse visto due sessioni nostre ovviamente fatto dei normi passi avanti perché mi dice 130 125 130 anima 54 vite 1451 vite se non avvisse visto che due sessioni il 2667 per cento del di cervello equivalente alle capacità mediani che ben utilizzato quindi più alto è il valore più vicino al dieci e lo supera e più le capacità mediani che sono consistenti 9.6 se avesse visto solo due sessioni 7 sapevo che questo era il valore più più forte in effetti lei ci ha raccontato tante cose da questo punto di vista va bene olga delle interferenze eteriche lei per mostrarmele mi porta in spiaggia e mi fa entrare dentro una grotta che sta nella spiaggia mi mostra tipo un pipistrello che sta appeso a testa in giù in alto sulla cima della grotta sul tetto della grotta e poi un serpente d'acqua a volte c'è un leone che si affaccia alla porta della grotta all'entrata quindi un serpente un rettile un pipistrello però è un misto secondo me perché è un serpente d'acqua quindi è un ibrido tra un rettile e un anfibio e il pipistrello cos'è? il secondo universo e basta e questo sì un leone che ogni tanto con la testa la sporge all'entrata della caverna qualche DL essere di luce lei mi fa vedere che ci gioca un po' a tennis con gli EDL come se trovasse un modo per relazionarsi con l'entità utilizzandole quindi a volte come se non le cacciasse via completamente ma proprio per tra virgolette esercitarsi per affinare le proprie abilità ci gioca un po' almeno quanti sono adesso mi fa vedere che gioca anche con gli EDL degli altri però rimanendo nel suo direi due entità mentali e me ne vengono due Gaia e libertà che livelli? secondo me sono entrambi fra il 2 e il 3 dove Gaia mi fa proprio vedere la madre terra Gaia è il nome della madre terra quindi tutto ciò che è creazione e tutto ciò che è riconducibile al femminile mi fa vedere come se lei avesse sia dei dubbi che delle frustrazioni relativamente al discorso della creazione perché Gaia insomma è come se fosse la la madre e la creatrice di tutto quanto quindi lei ha dei dubbi e a volte dei dispiaceri delle delusioni riguardo alla creazione ma si ha anche dei dubbi e dei dispiaceri riguardo alla propria femminilità sia femminilità in tutti e un po' tutti gli aspetti sia femminilità estetica partiamo da quello un po' più esteriore più superficiale sia femminilità diciamo amorosa di coppia ok dove è realizzata ma solo in parte e sia femminilità intesa proprio in questo caso come Gaia lei madre però madre del figlio quindi anche questo aspetto è frustrato e quindi è come se questa entità mentale invece che aiutarla ovviamente a sbloccare a risolvere queste cose facesse sì che lei rimanga legata e anzi vada a nutrire proprio come sai una finta madre terra vada a nutrire questi suoi dubbi queste sue incertezze queste frustrazioni questo Gaia e libertà? come se lei avesse molto un conflitto rispetto alla libertà cioè libertà anche qui su più livelli nel senso che lei vorrebbe sentirsi completamente libera sia libera dall'entità sia libera proprio nella propria vita libera proprio di realizzarsi pienamente libera di di essere e anche in qualche modo di rifare da capo certe cose però poi si trova ad inciampare rispetto e a delle scelte che ha già fatto e si trova ad inciampare rispetto a delle scelte degli altri e quindi rimane come in questo loop qui in cui vede la propria libertà non realizzata frustrata si sente quindi legata bloccata con le mani legate ammanettata e impianti inguine un impianto mentale ma neanche poi così ben strutturato che sembra più che altro un'aureola e poi l'inguine destro e il ginocchio destro e basta nome del progetto di Olga allora mi viene soft mi fa vedere tipo un asciugacapelli che è dotato di molti programmi quindi di varie potenze di calore e anche di varie potenze di emissione del getto d'aria quindi lei potrebbe scegliere per ipotesi da 1 a 5 però è messo sul minimo quindi nella versione un pochettino più soft per cui a lei piacerebbe anche poter giocare di più con questi tasti modificarli creare combinazioni diverse andare verso una maggiore potenza però di fatto quello che lei percepisce è l'effetto soft nome dell'anima allora alba nome dello spirito sole cinema compagno e figlio il figlio mi arriva con i capelli poco puliti non so perché è come se avesse bisogno di farsi lo shampoo penso che possa anche essere una sorta di metafora rispetto al fatto che ha anche un po' di confusione in testa dovrebbe veramente un po' riordinare le idee però fa assolutamente parte anche di un percorso di transizione da come ride Olga sono anche sporchi spesso quindi è un doppio lettura e il compagno? Allora adesso mi viene un po' un patatone non lo so il perché mi viene in forma non so un po' rotondo però potrebbe essere rotondo per il fatto che è molto accomodante conciliante non cerca lo scontro ecco però allo stesso tempo è anche un po' uno che sta un po' seduto ok quindi questa rotondità di come uno che non amasse proprio il movimento della vita preferisce non muovere troppo preferisce stare a casa e non fare un viaggio e preferisce anche non smuovere troppo le cose della vita mentre Olga è all'opposto le scombinerebbe tutto stravolgerebbe tutto e lui ama un po' di più stare nel comfort i fratelli credo sia fratello e sorella e gli amici che vogliono venire il fratello è come se si volesse mostrare un po' di più vengono delle amiche un po' quasi urlando sai sei quei gridolini di emozione no così ecco di felicità anche di attesa come se avessero atteso molto questo momento no che non stanno più nella pelle vogliono vedere c'è un mix di emozioni forti si 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 siedono quasi compatte attaccate no che si abbracciano fra di loro per assistere chiama anche è arrivato già chi ah no pensavo il suo ex compagno di classe ok si chiama anche quella signora che lei ha contattato bla bla e poi non se ne è fatto niente adesso però mi sta dando le spalle chi questa signora qua ok ma entra e allora ti dico come la vedo la vedo come in un intercapedine del muro ok perché poi alla fine è scomparsa sull'interferenza dunque mi fa vedere una banconota da perché sembra un po' un demone ok beh è stata il mezzo per affinché olga fosse qui oggi va benissimo bene portale aureo suonino le trombe tutti i parenti di tutte le vite e di tutte le generazioni di olga con chiamata personale e invito personale per cinque per la madre e i quattro nonni volevo chiederle perché però mi è arrivato adesso come informazione se la madre soffriva di gambe gonfie sì perché mi arriva proprio con gli zamponi no scusami l'espressione è un po' sì 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 con delle gambe molto grosse ecco sì esatto no e quasi come sento le pareti venose spingono no ecco quasi come se pulsano sai queste cose qui come se volesse le terme è come se mi chiedesse se nel portale aureo ci sono le terme ma ci sono anche qua le terme fuori dal portale aureo opla e le avevano create e l'acqua delle terme è fatta di vic liquida e lei dice queste sono le mie gambe quando avevo 15 anni e la vedo proprio non so come dirti cioè sorpresa super felice come se avesse un miliardo di volte espresso quel desiderio e finalmente lo vede davvero realizzato un gran bel paio di gambe le sue di quando era una ragazza molto giovane sì va bene facciamole fare le terme alla fine quando le ha fatte tutte bagno turco sauna idormassaggio piscina getti di qua getti di là le è entrata la vic liquida anche nelle orecchie come la vedi l'avete vista Olga questa è mia figlia e questo è un dono di famiglia mi fa sentire che queste dotiche a Olga sono sparse nella sua famiglia non sono ad esclusivo appannaggio di Olga ma lei è l'unica che le utilizza mi sa o se ne è resa conto dunque penso che in altre forme in forme di magia bianca siano state utilizzate da altre donne che si erano rese conto della capacità di creare un certo tipo di realtà ok lì accanto a lei c'è anche sua madre e suo padre di questa donna non i materni per i nonni materni ho la sensazione che Olga li abbia già mandati nel portale aureo mentre la madre proprio mi veniva chiara così subito con le gambe gonfie i nonni materni io li vedo delle luci penso che lei abbia fatto questa operazione anche solo involontariamente e i paterni sì stessa cosa ok messaggio della madre a Olga lo sai che l'acqua è il femminile bagnati in te stessa quanto ti voglio bene te lo ricordi te lo ricordo io è tanto e le fa vedere quanto l'acqua di questo mare il mare che ci aveva mostrato all'inizio Olga vuole lasciare un messaggio anche alla figlia e all'altra figlia così poi Olga riferisce siete tre gioielli appuntati nel mio cuore tutti uguali diversi ma uguali di importanza sai devo dire una cosa riguardo a questa cosa qui del cuore perché la madre mi fa vedere proprio i figli appuntati proprio come se fossero delle spille gioiello appuntati sul cuore però mi fa vedere allo stesso tempo il nome di Olga scritto con il cuore cioè la O al posto della O c'è il cuore perché? perché Olga ha scelto di mettere davanti a tutto il cuore cioè non inteso come buonismo come sentimentalismo eccetera ma come andare in profondità andare verso ciò che di più potente esiste infatti lo sappiamo il campo energetico più potente che è toroidale è quello del cuore e Olga ha fatto questa scelta e la madre lo percepisce perciò che la madre invece mi ha mostrato un cuore proprio nel vero senso della parola dell'organo come se fosse una sorta di punta spigli il cuore con loro tre appuntati dentro va bene li salutiamo la salutiamo quanti sono gli altri accorsi penso che Olga abbia magari lei lo sa non lo sa una buona affinità col mare perché mi vengono diversi tipo dispersi in mare piuttosto che annegati cose del genere è come se avesse richiamato questa parte qui di persone oppure persone che si sono sentite male mentre facevano il bagno questo è venuto 171 sono un po' stupito pensavo un sacco di più e me le fa vedere come circoscritti in una zona allora la sensazione che ho io è che Olga faccia volontariamente o involontariamente spesso questo processo e quindi ovviamente non sono così numerosi per questa ragione posso dirlo Olga sì Elba mi chiede ah ok circoscritta sì sì ci sta ci sta sì ok quindi lei ne ha mandati già nel portale Aureo quanti penso migliaia migliaia mi fa vedere nell'ordine di migliaia cioè io ne vedo almeno 3000 quindi l'idea di creare il portale Aureo è stata una buona idea perché è stata veicolata con le sessioni e alcune persone come Olga l'hanno raccolta e colta attivamente proprio lei attivamente attivamente è una gran bella parola e Olga l'ha l'ha incarnata in tutte le sue azioni benissimo causa beh allora li salutiamo chiudiamo il portale Aureo sì sì la madre vedo che è proprio salterella leggera sulle sue caviglie snelle no in punta di piedi e poi quando entra nel portale Aureo ovviamente si smaterializza causa esoterica delle gambe gonfie di Olga allora c'è questa aspetta copia ok di 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 disarmonia dalla mamma lei come se l'avesse copiata e cosa succede che la sta copiando sempre di più nel momento in cui lei sente si sente più vicina alla mamma e si sente mamma a volte in difetto più si concentra su se stessa riguarda il ruolo di mamma più si identifica con la propria mamma e più ovviamente nel corso degli anni sta prendendo questa somiglianza sta mutuando questa caratteristica della madre sul proprio corpo ok quindi è molto legata alla questione ruolo di mamma quindi si sente in difetto e si sente che non sa che pesce pigliare perché non riesce a capire qual è la via giusta di comunicazione quindi si in difetto comunque mi fa vedere una cosa mentre si parla di mi fa vedere l'impianto all'inguine destro come se potesse anche in parte partire da un discorso di irrorazione profonda che parte dal linguine quindi come se lei potesse provare a fare glielo consiglio almeno per un mesetto i bagni derivativi quindi l'acqua fredda nelle zone così dei genitali poiché è proprio legata ad un discorso di ruolo di madre quindi di femminilità andare ad agire lì dove tra l'altro appunto lei ha l'impianto potrebbe darle dei benefici causa esoterica del non dimagrimento questo mi viene connessa all'entità mentale libertà è come se lei nel momento in cui è libera ovviamente è leggera svolazza qua svolazza là perché si può spostare di situazione in situazione si può spostare attraverso le linee temporali eccetera eccetera e il fatto invece di essere più pesante la fa stare ferma le fa rendere più difficoltoso il movimento quindi è una sorta diciamo così di forma di in parte di autosabotaggio ok non mi do la possibilità di realizzarmi pienamente di essere pienamente libera però dall'altra è come se fosse una sorta di necessità che lei ha di mantenere questo peso perché sa che altrimenti scombinerebbe tante cose in ogni caso può trovare una giusta via di mezzo ok facciamo un passo indietro all'inizio di questa sessione ho dovuto interrompere la registrazione perché si sono mi ha chiesto il computer mi ha chiesto se volevo passare agli auricolari senza fili questo è un messaggio che può comparire quando si apre la scatola e si tolgono gli auricolari dalla scatola ma questo non è avvenuto perché la scatolina è chiusa in un'altra stanza causa è molto molto strano causa esoterica appena si è verificato mi era venuto fuori dispositivo impazzito causa tre medium in contemporanea ah quindi olga tu e io si va bene quindi facciamo le streghe di twitch ok che forse erano tre stregoni mi sa che la pfeiffer e la sarandon secondo me sono tre uomini quelli e nicholson era una donna no secondo me no beh share è un uomo è era un uomo la pfeiffer era un uomo sì anche se qua mi dà meno spiccata la dote di uomo non so come dirti no quasi quando a volte c'è quella mutazione genetica cazzo cazzo ermafrodito oddio non so se si dica così però qualcosa di simile sì passaggio da a già naturalmente è qualcosa simile sì e la sarandon con le sue uova al posto degli occhi ecco però vedi a livello di Susanna non lo so è vero c'ha proprio questi occhi sporgenti di disturbi da tiroide che però io le vedo per esempio legate ad alcune proprio specie animali no che hanno questi occhi sporgenti figlio sì ma odio però da anche il coccodrillo quindi era quello va bene capacità medianiche visioni sogni legati ad incidenti per esempio sogna una coppia di vecchietti su un camper che ok non è un caso impossibile ma è anche abbastanza raro e qualche giorno dopo fa un incidente esattamente con andando contro un camper e dal camper scendono una coppia di vecchietti Ponte Morandi a Genova prima che crollasse lo fa più volte e si sente molto molto male brutte sensazioni per una persona del paese tutti lo amano viene fuori che rubava soldi a destra a sinistra a tutti quelli del paese quindi visioni ma incidenti automobilistici ma dunque ecco vedi qua adesso arriva l'entità mentale Gaia che è comunque legata al discorso della creazione creazione che poi sono anche le sue facoltà ok perché la sua miglior creazione deriva proprio dal poter esprimere tutte queste sue facoltà il punto è che lei le ha molto forti molto accentuate ma questa entità mentale fa sì che sempre ci sia una sorta di critica e di insoddisfazione quindi lei dice sì ce le ho però non sono così precise queste intuizioni questi sogni queste premonizioni sono vaghe potrei fare di meglio non comprendendo che il linguaggio dell'anima è diverso ok dal linguaggio che noi siamo abituati a parlare a ragionare e va data un'altra strada ok un'altra va aperta un'altra porta e va dato un altro tipo di accoglienza a questi messaggi e non si può applicare quello che noi applichiamo che ne so allo studio ok è da dire allora dai voglio il risultato ho studiato devo vedere che so la lezione bisogna lasciare il massimo della libertà ok a queste immagini a questi messaggi di esprimersi senza stringerli all'interno delle maglie del giudizio della pretesa e della chiarezza non so come dirti è un approccio quasi più di accettazione di benevolenza amorevole che deve avere nei confronti di queste per far sì che loro prendano forma in maniera più chiara e anche più frequente meglio anche che siano non desiderati e non ti ho più senti no ci senti se adesso però sì meglio anche scusami meglio meglio anche che non siano così desiderate queste visioni per esempio se un'amica andasse da lei a chiederle dove è andato finire il suo gatto che si è smarrito questa cosa lei ha una responsabilità deve ritrovare il gatto smarrito questa cosa aiuta la visione o no infatti rientra in queste pressioni che lei si fa come una pressione di prestazione per ottenere qualcosa e l'anima non è compatibile con questo l'anima ha proprio bisogno di trovare degli sfoghi liberi è come il mare cioè non può essere costretta da questo dalle pressioni dall'insistenza dall'esigenza di un risultato eccetera ha bisogno di esprimersi liberamente però comunque per come lo vedo io Olga saprebbe perfettamente avere questa visione di dove è il gatto creazione sì ma lenta sì è tutto quello che abbiamo visto sia nel progetto chiamato soft e infatti abbiamo visto che tiene questi comandi dell'asciugacapelli al minimo per cui c'è questa lentezza in effetti i capelli come fai ad asciugarli se è molto bassa l'intensità è molto basso il getto quindi fa più difficoltà e anche proprio perché lei si ci si mette più tempo e poi lei la carica di tutto questo c'è di queste aspettative di queste pressioni di questa sorta di tensione di questa sorta di frustrazione del risultato se lei invece sospende ognuno di questi giudizi ognuno di queste aspettative vedrà delle cose straordinarie grandiose e l'altra cosa che deve fare molto collegata anche alla sua circolazione venosa è il respiro perché c'è qualcosa che non va nel respiro lei deve proprio fare degli esercizi di respirazione sì deve usare bene bocca naso e diaframma e fare proprio degli esercizi che vedo che proprio la svuotano completi i processi di riempimento e svuotamento d'aria e vedo che questo flusso di aria si ripercuote positivamente anche proprio nel flusso più profondo ok di circolazione di fluidità di libertà proprio dei fluidi interni sinusite cronica non lo sapevamo vedi sì sì che io lo vedo proprio legata anche a questa cattiva respirazione è come se si dovesse rieducare le può servire il pot sì 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 assolutamente sai cos'è volga dopo te lo spieghiamo ricordacelo allora ok e molto molto bene beh l'abbiamo già un po' visto dei suoi valori vedere le sessioni le dice mi ha portato grande beneficio è così chi ha deciso che lei vedesse le sessioni quel giorno che è incappata in quella che ieri ha compiuto due anni dalla morte non diciamo chi che tutti la amano con tutta la sua bella faccina piena di sangue da quella sessione lì in poi lei ha le è cambiata la vita insomma e allora sappiamo che tutto quanto avviene simultaneamente no quello che mi fa vedere è come se la olga tra virgolette del futuro che è quella che già aveva avuto esperienza di tutte le sessioni le avesse teso una corda a quella olga che in quel momento era cerba e le avesse offerto questa corda la olga cerba l'ha presa e mano a mano questa olga del futuro tirava 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 verso di sé e l'ha fatto anche con una forte determinazione offrendole proprio questa corda bella spessa per cui di fatto la olga cerba era già connessa con questa olga invece già formata e già consapevole del futuro si sono unite due linee temporali due o possiamo dire ti sento malissimo sai che mi senti malissimo è arrivata con il suo caschetto biondo perché mi senti male perché comunque cioè se noi la tiriamo in mezzo come minimo dobbiamo dire nome e cognome perché lei ha fatto la storia io non voglio dirlo perché mi ha abbastanza dato fastidio però diciamo però diciamo che questo personaggio che tutti amano e chiama macellato parecchio ha puntato in qualche modo moltissime persone a questi argomenti è come se ci fosse stato un equilibrio diciamo un prezzo pagato da i cattivi diciamo che che ha riequilibrato un po' la la situazione e si è così comunque sul finale della vita tipo nel suo ultimo anno di vita lei era come se avesse già avuto il bisogno che tutto questo si realizzasse cioè è molto difficile da dire questa sessione è molto complessa perché come ti ho detto siamo tre medium ok ed è come se tu mi facessi vedere questa questa persona che abbiamo citato e non citato allo stesso tempo nell'ultimo anno della sua vita che già anticipasse la sua connessione con te perché tanto siamo tutti connessi c'è poco da fare no come se lei già anticipasse questa sessione che tu avresti fatto e sapeva che le cose sarebbero andate così così tante visualizzazioni così tante persone portate dentro in un percorso di consapevolezza quasi come lei stessa a voler creare una piccola toppa di tutto la sua esistenza macchiata di sangue dov'è adesso? caschetto biondo? sì io la vedo proprio in questa teca intermedia dove comunque lei ha una funzione ha una funzione sia nel bene che nel male no? è molto nell'arcobaleno lei piace molto all'arcobaleno capito? ha tutto quella frangia lgbtq è come se attingessero da questa teca sospesa sia queste frange confuse pseudo transumane fluide sia però in qualche modo ma in maniera diversa le persone che vogliono fare un salto di consapevolezza attraversando tutto questo ci sono tante sì 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 moltissimissime bene chiamiamole tutte anche quelle che non hanno mai visto quel video o questi video quindi quello che non serve più nelle nostre linee temporali e nella nostra creazione è caschetto biondo caschetto biondo si sposta con la nostra mano e si butta nel quando in cucina alcuni paesi hanno la botola del dell'umido dove poi si tritta tutto ecco la buttiamo lì trittata tutti i capellini gialli trittati chissà come mai era bionda no massimo del controllo mentale riuscire già da subito già da canzonissima era no ma così la buttiamo via e chiamiamo tutti quelli che non hanno visto nessun video e che ops cascano e incappano in questo video scoprendo come olga andiamoci tutte e tre insieme facciamo i 3 medium scoprendo con olga le cose come stanno si olga sembra quasi un po' intimidita no in un certo senso da noi no sembra quasi un quasi un sogno per lei avere accesso a questo sembra quasi voler chiedere un po' il permesso queste informazioni le spariamo verso l'alto si scontrano contro la cupola si diffondono a ombrello su tutta la terra e piovono giù in modo che sia fiesta vedo proprio alcune persone che cercano notizie su questo personaggio quasi per celebrarlo e incappano in quel video lì e aprono gli occhi improvvisamente e inizia la fiesta eh sì grande fiesta va bene se qualcuno vuole commentare questo video dicendo ma non lo faccia perché anche no ricordatevi che siamo durante un periodo di caccia delle streghe bene la maga Olga si autosabota ogni tanto eh sì sì decisamente perché perché non sa bene come stare all'interno della sua vita che lei si è costruita precedentemente no con queste sue facoltà non sa bene come poterle inserire nel suo quotidiano con le persone che fanno parte della vita sua delle sue giornate è come se riuscisse maggiormente ad esprimere se stessa con persone che sono al di fuori della sua stretta cerchia familiare quindi tipo con quel gruppetto lì di di amiche che erano lì nel cinema lei riesce di più a manifestare la Olga Maga Magolga e ha più difficoltà invece per esempio con il compagno ha più difficoltà con il figlio causa esoterica di non sentirsi libera c'è l'entità mentale che abbiamo visto libertà e poi appunto mi fa vedere questo pipistrello come lei già in passato aveva visto che la prende per i capelli quindi quando lei sta per agire in una certa direzione intendo sia come azione pratica sia come azione energetica arriva questo pipistrello e per i capelli la tira indietro le impedisce questo tipo di azione quindi sono interferenze causa esoterica dell'essere anemica è come se lei avesse proprio questa difficoltà di bilanciare il suo essere visibile e invisibile il suo essere leggero il suo essere pesante cioè lei sta cercando comunque un modo di integrare di far quadrare questi aspetti quindi il fatto di essere anemica sai no diventa poi pallida pallida no bianca bianca inconsistente eterea che ha a che fare con l'invisibile rispetto all'essere visibile e consistente qui è come se lei stesse quasi con un mixer cercando di tarare la giusta misura all'interno delle sue facoltà perché l'essere invisibile è una delle facoltà causa esoterica della carenza di vitamine ricordiamo sempre che non siamo medici ricordiamo sempre che noi cerchiamo la causa esoterica e che la causa esoterica è un gioco facciamo finta che è solo un gioco noi giochiamo facciamo finta a chi dunque mi viene questa adesso mi sa che la sbaglio di sicuro perché non capisco Robois o Roibos Roibos ok me la dà tendente al rosso marrone può essere così come se questa cosa le desse anche colore fai conto quasi come se fosse un beneficio interiore ok ma anche quasi esteriore no che le dà un pochettino così di brio di colore no e mi fa vedere come se lei attraverso questo suo deficit avesse la possibilità di andare a recuperare un'altra delle sue facoltà che è quella di capire quali erbe poter utilizzare senza studiarle ma lei ride adesso scrive raccoglie erbe spesso ecco così in maniera intuitiva poi per carità se ha voglia di fare degli studi ok però veramente come se la sua anima avesse bisogno di andare a riprendere questa sua facoltà questa sua conoscenza che aveva sviluppato in vite precedenti che poi non sono mai precedenti sono tutte contemporanee no e allora però come fa a farli recuperare attraverso i deficit così lei guarisce se stessa dice sai no ho raccolto la pianta giusta ha avuto dei risultati su di me e quindi lo sappiamo no che la difficoltà è sempre il modo per acquisire una consapevolezza un'abilità no affrontare una prova va bene e in ultimo posso dirlo quello che è alle spalle vabbè sì Olga ha alle spalle l'ultima cena di Leonardo non dico altro causa esoterica aspetta mi viene Maria Maddalena come se lei in queste sue capacità proprio di vedere oltre e di vedere attraverso e di vedere in profondità abbia colto quello che è l'elemento più importante di questa cena di questa figura così enigmatica così importante di cui ancora non si è capito bene il significato quindi andare proprio oltre quella che è la solita classica lettura di vedere Gesù con gli apostoli lì intorno l'ultima cena il tradimento bla 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 mi fa vedere che tenetra questo livello di lettura superficiale molto comune e va verso Maria Maddalena va verso la donna va verso la femminilità va verso Gaia come se volesse proprio trasformare il femminile cosa succede nel cinema soprattutto relativamente al figlio che tanti anche se ha un'età un po' folle un po' pazzi insomma tanti problemi sta dando ai genitori allora dunque è come se mi fosse un attimino tornata indietro nel tempo e mi ha fatto capire che il modo di tagliare vabbè adesso dico una parola grossa però solo per capirci per tagliare il complesso di Edipo è stato questo cioè nel senso che lui era veramente quasi innamorato di lei per poter farsi di trasformare questa roba che altrimenti era lui innamorato della madre e in eterno competizione con il padre perché erano i due uomini che si competono una donna ha dovuto creare questo conflitto con entrambi per poi successivamente trovare un equilibrio con entrambi come fosse una fase intermedia per arrivare alla soluzione infatti tipo dice vabbè dai quando è finita la sessione mi faccio una doccia beh Olga pensava ad altre vite ma ma quelli ci sono sempre sì sì indubbiamente sì è il caso di analizzarle no perché mi mostra proprio come in questa vita sì è vero che poi cioè loro sono stati proprio sposati no lei con il figlio quindi indubbiamente lui è come se si fosse un po' trascinato no questo amore però tipo lei era rimasta vedova di lui quindi è come se lei nel frattempo avesse anche trasformato tutto questo sai attraverso il lutto lei aveva comunque preso distanza poi da questo tipo di rapporto mentre il marito morto così è come se avesse conservato quell'amore lì e l'ha portato qua va bene Olga ci è già andata tante volte vediamo se ci va anche stavolta il cluster mi fa ridere perché Olga mi porta fra le alghe ma poche poche alghe dentro il mare perché proprio in questa sessione mi ha proposto tantissime volte il mare sotto varie forme così il suo cluster è così qualche alga alga di Olga è veramente quasi senza sforzo quello che lei può fare e lo fa tra l'altro in maniera molto creativa è come se prendesse allora lei come se guardasse la forma dell'aiga che assomiglia alla forma di un corallo e non so perché ha bisogno di guardare il corallo perché Olga è veramente non so dirti ha mille possibilità mille sfaccettature quindi mi fa vedere come dalla bellezza del corallo lei riesce a estirpare e stanno cercando in qualche modo di impedirci questo cosa fa Olga se le mangia le alghe no 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 le assolutamente le le butta nel portale definitivo assolutamente cosa crea cosa crea al posto di tutti questi contratti che adesso non ci sono più allora dunque è come se fosse indecisa tra quale ad eternum mettere perché lei ha proprio un bell'arsenale di ad eternum ha diverse possibilità lei lo riesce a fare un ad eternum quasi dipingendolo e riesce a farlo anche con l'utilizzo delle mani a volte quasi con l'utilizzo solo degli occhi mente ma questa volta è come se favorendo la sua leggerezza scegliesse di farlo attraverso una specie di danza l'energia della sua danza leggera produce la del monica 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 produce la d'eternum questa e io non sento più te adesso senti mi senti mi senti ok e questo è l'eccesso di energia e l'energia della sua danza crea la d'eternum avatar no l'avatar lo vedo come se fosse la figura che puoi vedere in trasparenza sotto il mare quindi non ben definita inconsistente offuscata la tiene quasi gelatinosa non è anche questa assolutamente è proprio sicura così accelererà un sacco la sua evoluzione sì sì è quella che desidera anche grazie a tutti questi ostacoli che ci sono stati nella sessione no sono proprio un motivo in più ecco per desiderare un'accelerazione le togge lo togge l'avatar sì 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 assolutamente ok adesso qui crea un altro ad eternum suggerisco a forma di razzo quello su cui sta per salire Olga benissimo sì 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 le piace molto è un razzo quasi sembra alato come se avesse voluto mettergli un supplemento questo razzo gli ha messo anche le ali cioè tipo ali di pegaso sì così e dove se ne va beh se ne resta lì nell'avatar poi può anche sdoppiarsi andarsene dove allora intanto adesso lei mi sta facendo vedere che è come se stesse un po' sorvolando tutta quanta la terra piana è come se fosse in un certo senso una specie di tappeto volante questo razzo è proprio grazie a questa velocità lei ha modo di fare il giro del mondo bene lo faccia faccia quello che vuole se accetta un consiglio faccia il giro del mondo vedendo sulla terra mondo piana anche tutte le olga di tutte le sue incarnazioni se si è soffermata sull'america del nord e che lì c'è un olga interessante era uomo donna lei padrona completa tutale del gioco questa visione è molto interessante volare sulla terra senza tempo vedendo i puntini sulla superficie sono tutte le tue incarnazioni quindi vede nel nord america la olga uomo nella data che sarà che stava facendo quello che farà con l'apprendimento che è stato ok e così via nuovi valori le vite precedenti sono ancora 1451 929 guardali questi puntini che si spengono sì alcuni proprio mi dice inutilizzabili inservibili ha già imparato sì 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 bene nuova frequenza adesso mi dà 815 miliardi ma golga scatenata nuova consapevolezza 262 ps che già andava bene 54 è quasi la metà adesso con questo lavoro mi viene 68 69 nuovo cervello viene 11 e 3 messaggio finale di olga a se stessa olga mi fa vedere lei che anagramma il suo nome e mi dice olga ha fatto gol e la vedo esultante la vedo molto soddisfatta di sé messaggio di olga al compagno ti voglio sei un gran bene sei un gran bene sei un pilastro per me al fratello sei una fetta di me alla sorella qualcosa che le accomuna alla mamma non so come dire io e te simili in qualcosa rispetto alla mamma il figlio troveremo il nostro linguaggio va bene i tre medium che fanno adesso prima di andare è come se fosse arrivato non so un momento di riposo stiamo tutti e tre respirando insieme va bene sei pronta a tornare sì la vetti bene olga eccellentemente bene benissimo